Si chiamano Fira, li ha costruiti la Ansaldo Breda per l'alta velocità olandese, l'Olanda li ha restituiti. Sono stati proposti al Belgio che li ha rifiutati ed ora se li è presi Trenitalia che li destina la linea diretta Bari-Roma. E il deputato Roccopalese di Direzione Italia vuole interrogare il ministro del Rio su questa strana storia che porterà quello che dovrebbe essere il nuovo diretto Bari-Roma, l'attivazione è prevista tra pochi mesi, ad essere più lento del treno che percorre la stessa tratta oggi con tutte le fermate intermedie. Una vergogna che in Puglia già conosciamo, dice Palese, dal centro per il nord treni fiammanti, per il sud ci sono solo frecciargento, treni dismessi da altre tratte, vecchi, lenti ed ora anche quelli scartati da altri. E in effetti se dovesse essere attivata la linea diretta Bari-Roma, come chiesto dal sindaco del capoluogo pugliese e presidente del Lanci, Antonio De Caro, con questi treni FIRA la tratta sarebbe percorsa in 15-20 minuti in più, peraltro saltando fermate come Foggia. Nel tratto appenninico in cui gli attuali ETR, che sarebbero destinati alla linea tirrenica, arrivano a 160 km orari, i FIRA potrebbero arrivare al massimo a 120. Trenitalia avrebbe programmato lavori alla linea per permettere ai FIRA di andare più veloce, ma la sostanza non cambia, anche perché la Puglia, dopo la tragedia del 12 luglio scorso, proprio non merita treni che l'alta velocità olandese ha rifiutato, facendosi ovviamente rimborsare perché presentavano diversi problemi elettronici ai sistemi di sicurezza.